Inizia la parte bassa del secondo inning, del primo inning, bar in battuta, rutta, bb, mate, mazza rutta, è questo, quale? Fai vedere, proprio il pallino di caccia, ciao grazie, lui si riuscirebbe a, lui si riuscirebbe a, un ball, una strike per Baro, palla interna, palla, 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 palla. Un ball, una strike, è valida! Linea tra la prima e l'interbase, tra la prima e la seconda base. Ci sono delle pappe. Andiamo Diego, andiamo Diego, senza sprecare, la buona, la buona per il lavoro. A battere, eh tutti guardiamo, è lanciato l'albertoni, Diego, bant, alto, che prova in foul ball. Uno strike, zero out. Ok, ok, di gore. Il lanciatore prende il segnale, prepara il tiro. Vieni, 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 spingi, spingi, spingi. Il gol per il pelot. Il gol per l'albertoni, che va out in brava, però che spingi. A battere, Mirk Rospini. per lancio fau ball per rospini intanto cioccon andres si prepara a battere l'altro strike è un tentativo di credo una striscia di pick off da parte del catcher che rischia con baro che rischia l'eliminazione intanto a casa due strike terzo strike viene eliminato rospini questo era una bella palla va bene va bene va bene va bene a battere cioccon andres ricky 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 è un ball bravo altra palla bassa torna veloce su il primo punto segnato da Baros si valida di ciò con noi c'è la lista? c'è la lista? o c'è la lista? ma qual'era quella cosa? abito deve dirlo quando va a battere quando ho sentito il contatto? c'è uno ricchio quello nero mi reclamo a parto al piatto quando arriva spesa è nella lista, è nella lista stai cagando addosso questo è cattivo stanno discutendo se la mazza è regolare semplicemente perché si cagano addosso semplicemente perché si stanno cagando addosso perché non vogliono perdere ma perderanno lo stesso bravo 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 noi giustamente dobbiamo dare la possibilità di esprimere l'opinione a tutti poi no devono reclamarlo come entra come no no però lui ha voluto dire il senso che pure se me lo vengono a chiedere io gli rispondo poi non vale gli ha risposto quindi era omologata basta Ale ci potresti ripetere cosa è successo? è stato fatto tutto un gioco di parole perché la mazza non era omologata ha fatto un rumore strano alla fine dei conti battuta valida uomo in primo e punto a casa quindi sant'è perfetto intanto un buon a casa per Ridolfi Riccardo ok 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 un buon uno strike palla veloce è leggermente bassa fa un po' contatto Riki velo giro con due out e che lo sai fare lo sai lo sai lo sai fiducia palla alta che viene girata da Ridolfi e porta al conteggio un buon e due strike dovebro veng dela fa ancora male? va ancora male? vengono 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 Palla interna che viene girata, è da Ridolfi, e 3 out, il Pesaro va in difesa, con la sede in attacco, pronti a reagire, a star duri, chiusi, mentalità sotto di un punto, e andiamo. Bella mentalità, grazie, e ora la pubblicità.